Covid-19 in Basilicata, rischio zona rossa, a Matera hotel per asintomatici e tamponi drive-in. Chiusura a scuola, depositato il ricorso al TAR dei genitori lucani. Potenza in arrivo test rapidi per mappare la cittadinanza. Matera, il consiglio comunale tematico sulla raccolta differenziata. Ben trovati con l'informazione di TRM, questi principali titoli della giornata li approfondiremo dopo lo spazio pubblicitario, tra poco. Ben ritrovati in studio. In apertura torniamo ad occuparci dell'emergenza coronavirus. La Basilicata è a rischio zona rossa. A Matera vengono aperti hotel per asintomatici e istituiti tamponi drive-in. Un focolaio intanto si registra nelle RSA di Tito e Avigliano. Facciamo il punto nel servizio. Diffusione del contagio da Covid-19 in Basilicata preoccupare in particolare la situazione nelle RSA. Gli ultimi casi a Tito con 36 positivi tra operatori e ospiti e a Avigliano con 22 contagiati all'interno della struttura. Purtroppo 36 ospiti positivi al Covid-19, oltre ad altri 13 operatori positivi al Covid-19. Naturalmente c'è un contatto costante con i responsabili della struttura, con i gestori della struttura, che da subito hanno avviato le attività per isolare i positivi. e i pochi ospiti per fortuna rimasti negativi evidentemente, e allo stesso tempo per organizzare e riorganizzare attraverso gli operatori la migliore assistenza all'interno della struttura. Intanto i sindacati denunciano la pressione a cui sono sottoposti 118 ospedali a pronto soccorso e chiedono al Presidente della Regione Bardi di nominare un commissario per l'emergenza. Preoccupa l'aumento dei contagi a Matera, per questo motivo il Comune ha individuato tre covi hotel per 150 asintomatici e nella città dei Sassi, dal 23 novembre, sarà possibile effettuare i tamponi in modalità drive-in in una tenda allestita dalla Marina Militare nel parcheggio dell'ospedale Madonna delle Grazie. E veniamo ora agli aggiornamenti sui nuovi contagi comunicati dalla Task Force Lucana. I nuovi positivi in Basilicata sono 232, di cui 219 sono residenti e domiciliati in Basilicata. I ricoverati passano da 175 a 181, di cui 29 si trovano in terapia intensiva, 36 invece i guariti e 3 le persone decedute. È sempre Matera il territorio con il più alto numero di nuovi contagi, ne sono stati registrati 37 nelle ultime ore. Due ai focolai, come avete sentito, nell'RSA a Tito e ad Avigliano. E ora ci occupiamo di scuola. È stato presentato un esposto al TAR da un comitato di genitori relativo alla decisione della Regione di sospendere le attività in presenza. Facciamo il punto nel servizio. Anche in Basilicata la battaglia per la riapertura delle scuole si è spostata in tribunale. Il diritto all'istruzione non può essere gestito come una misura d'emergenza. Questo è il concetto che un gruppo di genitori lucani ha voluto difendere presentando un ricorso formale al Tribunale Amministrativo di Basilicata per opporsi alla decisione della Regione di sospendere l'attività in presenza nelle scuole primarie e secondarie. Dopo la presentazione dell'esposto, i giudici avrebbero chiesto alla Regione Basilicata di depositare una relazione dettagliata sulla situazione in tutte le scuole. Ciò al fine di capire quali siano state le ragioni che hanno portato a un provvedimento più restrittivo rispetto alle disposizioni introdotte dall'ultimo DPCM. Il Comitato dei Genitori ha sottolineato inoltre che la chiusura delle scuole danneggia tutti coloro che non possono accedere al congedo parentale né ad altre forme di aiuti, ma soprattutto i piccoli alunni che non possono essere seguiti in modo idoneo. Alcuni di loro rischiano addirittura di essere estromessi del tutto dall'insegnamento. E ora una notizia è arrivata proprio in questi istanti in redazione. La Basilicata resta osservata speciale ma rimane zona arancione. Il Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi stamane, come d'altronde già anticipato ieri sera dal Ministro Speranza, ha deciso di dare un'altra settimana alla Basilicata prima di eventualmente farla passare a zona rossa. Durante l'arco di questa settimana la Basilicata sarà dunque osservata speciale soprattutto per il ritardo con il quale vengono comunicati i dati e per le diverse imprecisioni negli indicatori che devono essere registrati. Se nell'arco di questa settimana queste lacune saranno colmate si resterà zona arancione, altrimenti si passerà a zona rossa. Questo l'ultimo aggiornamento. Adesso ci spostiamo a Potenza dove sono in arrivo i test rapidi per mappare la cittadinanza. Sentiamo. Stiamo provvedendo alla ricerca di test rapidi dal costo congruo per effettuare uno screening sulla cittadinanza. L'ufficio bilancio sta già postando delle risorse. E' quanto dichiarato dal sindaco di Potenza Mario Guarente nel corso del Consiglio Comunale convocato in modalità telematica in risposta ad una interrogazione urgente presentata dai consiglieri d'opposizione di centro-sinistra in merito all'organizzazione degli uffici comunali nella fase di emergenza Covid. Sulla recente chiusura e sanificazione degli uffici comunali di Sant'Antonio Lamacchia si è trattato di un contagio avvenuto all'esterno, ha precisato Guarente, verosimilmente in contesti familiari. Ad emergere inoltre il 70% di lavoro agile per il personale in capo all'amministrazione e circa 245 mila euro di spesa da inizio pandemia suddivisi tra acquisto di dispositivi di protezione personale, termoscanner, sanificazioni immobili, scuole e mezzi comunali. Intanto prosegue l'effettuazione dei tamponi mirati presso il drive-in di concerto tra ASP, protezione civile comunale e marina militare. Nelle scorse ore è toccato alla polizia locale. Appunto avere un quadro sullo screening al di fuori di quelli che sono stati i dati dei positivi. La polizia locale per esempio, che è un organo particolarmente esposto a rischio, viene sottoposto periodicamente, credo che sia la terza o la quarta volta che viene effettuato un tampone agli uomini e alle donne della polizia locale. Per quanto riguarda lo screening, ripeto, stiamo aspettando di avere notizie certe. Io sono in contatto costante con l'ASP proprio perché sto aspettando direttive rispetto ai tamponi che siano quanto più efficaci possibili. Però, ripeto, è nostra intenzione proprio sottoporre l'intera comunità ad uno screening che ci permetta, insomma, di avere un quadro completo di quella che è la situazione attuale, reale. Torniamo a occuparci della situazione negli impianti di Tempa Rossa. Continuano, secondo i programmi e con la conferma della buona affidabilità degli impianti, le prove di esercizio a Tempa Rossa. Il centro olio della Total in Basilicata, con una produzione media di greggio che varia attorno ai 45 mila barili al giorno, nella continua osservanza delle inderogabili condizioni di sicurezza e protezione dell'ambiente, previste come attestato dal sistema di monitoraggio ambientale 24 ore su 24, collegato agli uffici ARPAB. Nel comunicato diffuso dalla compagnia petrolifera, inoltre è specificato che il completamento delle prove di esercizio e la messa in esercizio definitiva sono previsti entro l'11 dicembre, con l'adempimento dei necessari passaggi autorizzativi presso le autorità competenti. Ci spostiamo ora a Matera, dove è stato convocato un Consiglio Comunale tematico incentrato sulla raccolta differenziata. Consiglio Comunale monotematico sulla raccolta differenziata a Matera, con un ordine del giorno e un'interrogazione sul tema. L'assessore Arramo Suma ha precisato che in queste settimane sono stati svolti approfondimenti e analisi sullo stato dell'arte e dei processi. Sono state verificate le condizioni del capitolato d'appalto, mentre diversi tavoli tecnici hanno esaminato le principali criticità, in particolare per le mancate consegne e le problematiche nella zona sassi. È stato richiesto, ha ribadito Suma, un report dettagliato e dall'azienda sono stati trasformati in full-time i profili part-time. È stato inoltre integrato il personale inorganico. Ad oggi sono 88 gli operatori dedicati alla raccolta e 4 alla pulizia delle strade, oltre a una platea di lavoratori socialmente utili. Il funzionamento del solo centro di Matera Sud certamente penalizza l'efficienza del servizio. Saranno inoltre implementate le azioni di comunicazione. Nelle prime settimane, rispetto all'anno scorso, si è passati dal 23% al 70% di raccolta differenziata. L'ordine del giorno presentato dal consigliere Augusto Toto, al fine di poter raggiungere quanto prima gli standard qualitativi e quantitativi di raccolta differenziata in città, è stato approvato all'unanimità. Passiamo ora alla cronaca. Sono stati trovati in possesso di circa mezzo chilo di eroina a Matera due uomini, uno di 49 e l'altro di 35 anni. Sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri. I due uomini, che erano a bordo di un'autovettura, sono stati fermati lungo una strada di collegamento con Bari dopo un breve inseguimento, durante il quale uno dei due ha lanciato dal finestrino un pacchetto. All'interno vi era la droga. I due che hanno precedenti penali sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E restiamo ancora a Matera. Nonostante le disposizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus, una sala scommessa era comunque in funzione. La polizia ha scoperto che le giocate venivano effettuate attraverso lo stratagemma delle ricariche online eseguite da un dipendente. E ne ha quindi disposto la chiusura per cinque giorni. E' stata applicata inoltre una sanzione amministrativa di 400 euro. In particolare, durante un controllo, gli agenti hanno trovato all'interno della sala scommessa il dipendente e un avventore. Quest'ultimo, poco prima, aveva versato una somma per effettuare una ricarica online. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, questo stratagemma era utilizzato nei giorni scorsi da diverse persone. Cambiamo argomento e ci occupiamo ora di industria. Oggi è il PMI Day. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio. Anche quest'anno, il Comitato Piccola Industria di Confindustria Basilicata aderisce all'undicesima giornata nazionale delle piccole e medie imprese PMI Day 2020. L'iniziativa che si rinnova da 11 anni con la finalità di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'impresa e le sue opportunità. Tema scelto la resilienza, con particolare riferimento alla capacità delle imprese di gestire e affrontare la complicata pandemia in atto. Proprio a causa del Covid, l'iniziativa che ricade nella diciannovesima settimana della cultura d'impresa si è svolta in digitale. Coinvolti circa 500 studenti di istituti superiori, di potenza e matera e rispettive province. Cavalchiamo tutto ciò che è digitalizzazione, tutto ciò che è strumenti che possono avvicinare le persone e che grazie, ripeto, alla tecnologia possa portare ancora più consapevolezza. E qui i giovani ci sono di aiuto. Momento di scambio, momento di orientamento per loro per rilanciare un'economia, quella della Basilicata, che deve ritornare e portare al centro quello che è il capitale umano. L'obiettivo di ogni anno è quello di avvicinare i luoghi del fare ai luoghi del sapere, di dimostrare in maniera concreta, entrando in due eccellenze lucane, che sono la Marlucano e la Idros, di come si possa fare impresa in Basilicata, in un caso da molte generazioni, nell'altro caso di prima generazione, ma con risultati importanti in regione, in Italia e anche all'estero. Intervenuti, tra gli altri, il presidente nazionale della piccola industria di Confindustria, Carlo Robiglio, ed il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Giampaolo Manzella. Noi dobbiamo lavorare proprio per portare questi valori imprenditoriali dentro i nostri ragazzi. Qualunque ragazza o qualunque ragazzo deve sapere, deve conoscere qual è la vocazione economica del territorio, perché da lì parte una maniera attiva di vedere e di vivere la propria vita. Ancora una notizia in ambito economico. L'assessore alle attività produttive della regione Basilicata, Francesco Cupparo, partecipando oggi in videoconferenza alla riunione del Comitato di indirizzo della ZES Ionica Interregionale Puglia e Basilicata, ha formalizzato la candidatura dell'area di Ferrandina per l'istituzione di zona franca doganale all'interno della ZES. Cupparo ha riferito inoltre che la Giunta si riserva di valutare la candidatura di una seconda area, in questo caso in provincia di Potenza, sempre per l'istituzione di una zona franca doganale. Ma oggi, 20 novembre, è anche la giornata mondiale per il diritto dell'infanzia. Ascoltiamo il messaggio di Monsignor Cagliazzo. Una giornata per ricordare e ribadire con forza i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e soprattutto i doveri che hanno le comunità che si prendono cura dei più piccoli. Il 20 novembre 2020 ricorre il 31esimo anniversario dalla sottoscrizione della Convenzione sui diritti dell'infanzia, che fu approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1989. L'UNICEF ha lanciato una campagna social chiedendo ai bambini di postare messaggi di ottimismo, scrivendo sulle mascherine. La pandemia sta mettendo a repentaglio tali diritti e ora più che mai occorre tutelarli, come ha sottolineato anche Monsignor Giuseppe Cagliazzo. Non dovete pensare soltanto a quello che vivete voi qui, a Matera o in Basilicata o in Italia. Pensiamo ai tanti bambini che sono nel mondo. Quanti diritti vengono negati? Il diritto, che so io, di andare a scuola, il diritto di avere una casa, il diritto di avere una famiglia, il diritto di vivere in un clima di fraternità, il diritto di crescere e di sapere che c'è un futuro che ti aspetta, che ci sono delle persone che ti accompagnano e spesso e volentieri il diritto di cui ognuno di noi ha bisogno e soprattutto voi viene violato. Pensate ai tanti bambini anche che vengono usati, mercificati, che vengono venduti. A volte penso a tutti i bambini che magari vengono anche sottratti ai loro genitori, alle loro famiglie. Ecco, ci sono tanti diritti che hanno bisogno di essere messi in evidenza e rispettati. I sistemi universitari calabrese e lucano lavoreranno insieme per il rafforzamento dei rispettivi brand con delle singole specificità che messe insieme offriranno una proposta molto variegata. La sinergia a partire dalla notte della ricerca che vedrà unite le due istituzioni il prossimo 27 novembre. Vediamo di cosa si tratta. Conferenza stampa di presentazione di Super Science Me Research is your revolution. La notte dei ricercatori che coinvolge le Università della Calabria, di Catanzaro, di Reggio Calabria, della Basilicata insieme alla Regione Calabria e diversi istituti del CNR. Venerdì 27 novembre la brillante scienziata Super Science Me racconterà la storia dell'evoluzione scientifica e umana e lo farà invitando il pubblico di ogni fascia d'età a vivere un avvincente viaggio nel tempo attraverso una piattaforma digitale fra esperimenti, visite nei laboratori e nei musei, dimostrazioni scientifiche e performance artistiche. Il pre-evento di questa edizione è Basilicata Calabria Coast to Coast, un tour con la macchina del tempo di Super Science Me con tappe nei luoghi dei territori interessati dalla notte dei ricercatori, che fra riprese di paesaggi mozzafiato, interviste, seminari e attività scientifiche e culturali, è stato registrato nei giorni scorsi per confluire in un video promozionale dell'evento. Allora, l'università è l'unica istituzione al mondo ad avere tre missioni, la prima è banale e conosciuta da tutti, è la costruzione della conoscenza, l'elaborazione della conoscenza e quella che noi chiamiamo ricerca. La seconda è la trasmissione della conoscenza, quella che noi chiamiamo didattica e alta formazione, e la terza, quella che noi chiamiamo banalmente terza missione, si occupa di varie cose, tra le quali non è solo la divulgazione, uno dei compiti che attiene all'università, ma è anche quella del coinvolgere e impegnarsi, quindi coinvolgere la società civile, impegnarsi verso la società civile scegliendo anche le tematiche della ricerca, quella che è il public and social engagement, di cui praticamente questa manifestazione è una delle espressioni più importanti. E ora lo sport, l'Olimpia Basket Matera ha deciso di ritirarsi dal campionato. Sentiamo. Porte chiuse alla pallacanestro materana, l'Olimpia Basket Matera ha deciso di ritirarsi dal campionato di Serie B 2020-2021, il primo a disputarsi senza pubblico. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione, accogliendo con rammarico, sottolineano in una nota, la possibilità concessa dalla Lega Nazionale e palacanestro di rinunciare alla disputa del campionato. Una decisione sofferta e dolorosa, ha spiegato il presidente del club Rocco Sassone. Il CDA dell'Olimpia ha definito intempestive le determinazioni della Lega, poiché è stato chiesto alle società di decidere in poche ore come portare avanti i propri progetti. Nelle scorse ore il Consiglio Direttivo ha allargato all'Assemblea dei Socii e all'assessore allo sport del Comune di Matera per discutere della situazione economica. Alcuni sponsor hanno ritenuto insignificante l'apporto economico derivante dall'assenza di pubblico, si legge ancora nella nota. Il Comune di Matera ha presentato la possibilità di utilizzare gratuitamente il Palasassi, offerta ritenuta dal CDA non sufficiente a garantire però la sostenibilità del campionato. È tutto, vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni.